Il motore della 458 speciale è il V8 aspirato Ferrari più potente di sempre, capace di erogare 605 cavalli a 9.000 giri al minuto e 540 Nm di coppia massima a 6.000 giri al minuto. La potenza specifica record di 135 cavalli per litro è la più alta mai raggiunta da un motore aspirato per uso stradale. Per raggiungere questi straordinari risultati, l'efficienza è stata migliorata in tutte le aree. Oltre all'aumento della potenza, la sfida è stata il miglioramento della coppia a tutti i regimi. Un obiettivo che ha richiesto un incremento del rapporto di compressione portato all'eccezionale valore di 14 a 1. Il risultato più alto mai raggiunto per un motore V8 aspirato. La fluido dinamica della camera di combustione è stata rivista per ottimizzare le fasi di aspirazione e scarico. Ridisegnata la geometria del condotto di aspirazione all'esterno e all'interno della testa con l'accorciamento delle trombette meno 10 mm e una più alta permeabilità sul profilo di alzata della valvola più 5%. Nuovi anche i profili dei lobby sugli assi a camme. Maggiore potenza e coppia sono frutto anche della revisione delle geometrie di diversi componenti e della riduzione degli attriti interni. I pistoni sono realizzati in nuova materiale che ha permesso il contenimento delle masse. È stata rivista la geometria dell'albero motore per l'ottimizzazione e l'incremento della lubrificazione dell'inbiellaggio in tutte le condizioni di utilizzo. Sono nuovi anche i materiali per le boccole delle bielle, mentre i trattamenti termici specifici DLC, Diamond Light Carbon, sugli spinotti assicurano maggior resistenza a fatica e usura. Grazie alla riprogettazione degli impianti di aspirazione, polmoni, scatola filtro in carbonio e trombette e di scarico, la riduzione di peso complessiva del propulsore è di 8 kg. Il suono del motore V8 è coinvolgente e senza compromessi, grazie a un'intensità senza precedenti sia all'esterno che all'interno dell'abitacolo. La posizione dei codini di scarico conferisce al V8 una corposa presenza di basse frequenze tipiche dei motori Ferrari più sportivi. La configurazione dei silenziatori garantisce la massima intensità e un'eccezionale limpidezza. Potenza e pienezza del suono all'interno dell'abitacolo sono state raggiunte grazie alla revisione della linea di aspirazione. Grazie a tutti!